Operativa sul territorio, la Croce Rossa che con i suoi comitati locali sta gestendo la situazione attraverso una serie di attività rivolte ai cittadini, in particolare anziani e disabili. A fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus, Giovanni Addis, presidente regionale della Croce Rossa e Giuliano D'Angelo, direttore della Croce Rossa di Serre. In Campania la Croce Rossa con i suoi 27 comitati territoriali sta provvedendo all'assistenza degli anziani con il pronto farmaco e l'assistenza socio-sanitaria all'interno delle abitazioni, oltre che all'assistenza aeroportuale con l'USMAF e con l'assistenza presso gli aeroporti e i porti. Noi abbiamo presso i nostri comitati un servizio di assistenza psicologica e la stiamo vivendo abbastanza in modo molto forte, in quanto il personale naturalmente essendo comunque del territorio subiscono anche loro questa emergenza. I volontari posso dire che con grande senso di sacrificio sia a livello regionale che nazionale, l'hanno affrontata veramente diciamo in modo eroico perché quello che stanno facendo lo stanno facendo solo ed esclusivamente per assistere i cittadini. In Campania diciamo che dobbiamo riscontrare molto spesso dei comportamenti che non dico irresponsabili ma poco acuti in quanto il rientro di molte persone sta mettendo in crisi il sistema. Noi come comitato abbiamo una competenza territoriale di 34 comuni, un po' tutta la Valle del Sele, il Tanaro, gli Alburni. Nel caso specifico di Altavilla dove stiamo qua, noi avevamo già da qualche mese in atto un servizio insieme all'amministrazione comunale che era quello praticamente un servizio del farmaco pronto per le persone anziane e non abbiamo fatto altro che su questo territorio di estenderlo a tantissime persone che oggi rimangono in casa. Ci stiamo occupando nello specifico del territorio di Altavilla di far rimanere in casa come dicevo le persone, e quindi fare un servizio anche di pronto spesa, cioè ci richiamo praticamente a casa di queste persone e andiamo a fare la spesa al loro posto. Oltre a quello che è il supporto molto spesso che ci viene richiesto anche telefonico sulle regole buone che vanno adottate in questo momento e le informazioni proprio relative a quella che è il Covid-19. A presto, a presto, a presto.